Si è riunita a Palazzo Lascaris la consulta delle elette del Piemonte, organismo che promuove le politiche di parità e concorre con le sue iniziative di formazione e informazione a rendere le donne elette punti di riferimento per il mondo femminile. Nel corso della riunione è stata designata la nuova presidente. Credo che questo ruolo sia importantissimo perché bisogna promuovere e valorizzare la presenza femminile nella società, nelle istituzioni e nelle cariche pubbliche. Sarò lieta di collaborare con tutte le elette di tutta la regione Piemonte, tutti i vari territori, i vari comuni. Sarà un duro lavoro ma ne sono entusiasta. Ringrazio ancora tutte le colleghe che mi hanno proposto e che mi hanno votato e tutte le persone che credono in me.